buongiorno mi chiamo giovanni boccato e sono direttore commerciale italia della sim2 sim2 per chi non la conosce è un'azienda tutta italiana che disegna produce e commercializza prodotti e locata in pordenone oggi volevo presentarvi parlarvi più che altro del nostro nuovo prodotto l'M150 è un prodotto a led la caratterizzazione principale appunto che è un prodotto a led a single chip possiamo dire tanto per inquadrarlo che è il primo prodotto al mondo a led 3d e il prodotto proiettore a led più luminoso oggi nel mercato qual è la caratteristica principale dei led quella che conoscono tutti è la durata di vita facendo un conto così semplice se una lampada dura 2500 3500 diciamo una media di 3000 ore per prodotto ogni volta il led dura 30 mila ore 10 volte una lampada 30 mila ore sembrano tante o poche ma comunque sono se noi consideriamo quattro ore al giorno per tutti i giorni dell'anno sono più di 14 anni di utilizzo del sistema questo vuol dire per il cliente che per 14 anni non avrà più nessuna spesa di manutenzione per la sostituzione della lampada non solo il led ha anche altre caratteristiche una caratteristica è che è un componente a stato solido è un componente a stato solido quindi non ha bisogno di essere acceso di avere un warm up a essere acceso prima è spento è spento anche in un periodo di tempo sappiamo che se la lampada si spegne se per caso si toglie l'alimentazione della lampada senza lasciare che si raffreddi nel modo corretto rischia di danneggiarsi e quindi ridurre la vita il led invece si accende si spegne immediatamente il led ha un drawback che è quello di cambiare la colorimetria al cambiare della temperatura di funzionamento questo vuol dire che se non ben controllato il led potrebbe diventare ad esempio il colore rosso potrebbe diventare arancione per fare per evitare questo si in due ha disegnato un sistema di raffreddamento a liquido che è molto particolare in modo sofisticato questo vuol dire che all'interno del nostro prodotto c'è un radiatore con una pompa che va a raffreddare con un liquido come una macchina che va a raffreddare tutti quanti i led questo ci permette di avere un controllo del silenzioso del raffreddamento e un controllo colorimetrico ci sono altre informazioni interessanti di questo prodotto potete trovare nel nostro sito